So che qua non si parla di religione, ma quello che tu professi il calvinismo, no, minculo tuo matrismo, io professo minculo tuo matrismo, è un altro tipo di religione, è una religione che convolge tanti ragazzi, giovani, più grandi, più piccoli, il minculo il tuo matrismo è proprio una religione che va avanti e penso che andrà forte per tanti anni.